e salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video allora quest'oggi siamo qui per parlarvi dei bitcoin cosa sono i bitcoin e molto altro molto probabilmente di questa serie farò due video uno dove vi spiego cosa sono e quando sono nati e l'altro come funziona e come si possono avere bitcoin allora intanto partiamo da un argomento più generale cosa sono le monete virtuali le monete virtuali sono dei soldi delle monete del denaro virtuale cioè, oddio se io ho le cuffie o sto usando il microfono dicevo, sono delle monete virtuali che vengono utilizzate per fare scambi commerciali su internet nel, sia nel web normale ma soprattutto nel deep web e nel dark web ovviamente i bitcoin possono essere convertiti anche le altre monete, le altre criptovalute le cose chiamate possono essere convertiti in soldi le criptovalute hanno un difetto che non sono nazionalizzate cioè che non sono create, non sono controllate da nessuno ma sono così, messe lì le creano e vanno perciò possono salire e scendere di prezzo ad una velocità vertiginosa tipo adesso i bitcoin ad esempio saranno a 20.000 euro fra un'ora sono a 10.000 euro questo non si potrà mai sapere cosa sono i bitcoin? i bitcoin sono una grande criptovaluta che viene utilizzata per scambi commerciali ora, avere dei bitcoin adesso che voi avete acquistato nel 2009 quando sono nati è una grandissima fortuna perché significa avere migliaia e migliaia di dollari bene, questa è un'ottima cosa ora, ora, ci sono anche delle dei problemi, dei difetti che hanno questi bitcoin di cui vi parlerò allora, intanto che non sono nazionalizzate la seconda è che non possono essere utilizzati per scambi con Amazon e altri servizi così famosi prima devono essere convertiti in soldi questo perché? perché le aziende ancora non hanno capito la potenzialità del bitcoin quindi utilizzano cioè vuoi comprare con il bitcoin? no convertilo prima in soldi veri e dopo compri quello che deve comprare un computer un componente o quello che ti serve questo è un grosso limite di bitcoin che spero venga superato poi altri limiti non ce ne sono e ci sono molti pregi cioè che voi potete fare 10.000 euro in un'ora ma che un ultimo difetto scusatemi è che ne potete perdere 20.000 in un'altra ora quindi io spero ragazzi che questo primo video sui bitcoin vi sia piaciuto se è così lasciatemi un commento mi piace e noi ci vedremo in un prossimo video anzi nella seconda parte sui bitcoin ciao a tutti grazie a tutti Grazie.